Ciao, giochiamo insieme! Quale parte del corpo serve per mangiare? Eh? Esatto! Ora tocca a me! Ma cosa mi dici mai? E quale parte del corpo serve per sentire? No, questa serve per annusare! Topo Gigio Domandino, l'amico che insegna a conoscere le diverse parti del corpo! E sono giochi preziosi! Trapacciami di coccole! Trapacciami!